Resta alta la tensione nel carcere Terramano di Castrogno dopo la fuga di un detenuto registrata qualche settimana fa, ieri si è verificato l'ennesimo atto di violenza. Un detenuto magrebino della media sicurezza a seguito della perquisizione della cella ha dapprima ingiuriato e minacciato gli agenti di servizio al piano detentivo e poi con un piede del tavolo di legno ha rotto tutte le vetrate della semisezione nord. Per concludere ha scagliato un bidone della spazzatura verso un agente ferendolo ad una con 15 giorni di prognosi da parte del pronto soccorso dell'ospedale di Terramo. A denunciare l'ennesimo accaduto il segretario di Terramo del sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe Giuseppe Pallini. Va ricordato che la casa circondariale di Terramo oramai vive da anni una condizione cronica di sovraffollamento. Ad oggi 405 presenti per circa 250 posti e una carenza di organico di 60 poliziotti. Il segretario Pallini ha inoltre evidenziato che non è stato possibile ubicare il detenuto in isolamento poiché da giorni il reparto è chiuso a seguito della devastazione di altri detenuti nei giorni precedenti e non è mai stato riparato. I sindacati inoltre contestano che in questo quadro allarmante la direttrice del carcere nonostante questa carenza di agenti l'evasione di un detenuto ai nostri appelli sta ponendo in ferie d'ufficio un numero elevato di poliziotti per far loro smaltire quelle accumulate, decisione che crea problemi dal punto di vista organizzativo e operativo causando accorpamenti di presidi di sicurezza, turni di servizio di 9 ore e riduzione di personale nei vari turni di servizio.